E' stata presentata questa mattina in conferenza stampa presso la Sala del Consiglio Comunale di Siderno l'Ottobrata Sidernese. L'iniziativa organizzata dalla locale amministrazione comunale, finanziata dal POR Calabria, Ministero del Turismo, si prefigge una due giorni molto intensa presso il Borgo Cittadino. Si incomincia il 28 ottobre con mostre fotografiche e pittoriche, il paesaggio calabrese a Palazzo Falletti e poi l'animazione per bambini in piazza San Nicola e l'anfiteatro adiacente. Alle 17 la presentazione del libro La Calabria delle meraviglie di Arcangelo Badolati, a seguire il convegno d'estagionalizzazione e prodotti a chilometro zero. Poi alle 20 il ballo dei giganti con gli artisti di strada, i giocolieri, la musica itinerante per le vie del Borgo e infine il monologo di Rocco Barbaro, Menefotto anfiteatro. Il 29 ottobre si inizia alle 17 con un'alimentazione sana, un viaggio tra tradizione e modernità, a seguire la presentazione del libro Amara Verità di Carlo Guccione a Palazzo Falletti. Alle 19.30 la poesia in vernacolo, a cura di Rossella Garreffa in piazza San Nicola. Alle 20.30 il ballo dei giganti e poi la conclusione con Peppe Voltarelli in concerto alle ore 22. È un evento chiaramente come amministrazione comunale, noi abbiamo voluto destagionalizzare anche gli eventi. Siderno Superiore è il borgo storico di Siderno e si presta ad attività che riguardano la rivalutazione, sviluppo delle tradizioni. Quindi fondamentalmente è questo, far rivivere il borgo in quella che è la storia, la tipicità, i mercatini, le tradizioni e la cultura della cucina, della vita, quella che era la vita di un tempo, contadina, artigiana del nostro centro storico. Si apriranno, ci saranno proprio i mercatini, lo street food, ma ci saranno anche convegnistica e mostre culturali. Su che cosa saranno? Si verteranno naturalmente sui paesaggi calabresi. Ripeto, un richiamo alla nostra storia, alla nostra cultura e tradizione, perché non può esserci modernità senza ricordo delle nostre tradizioni. Si parlerà di alimentazione, alimentazione sana, perché alimentazione sana riprendendo quelli che erano i valori della cultura in chiave moderna. Ci saranno anche delle presentazioni di libri e delle mostre fotografiche e pittoriche.